È nata ad Arezzo l'Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, che comprende 25 paesaggi lungo tutta la penisola, tra questi anche il Parco dell'Olivo di Venafro, un omaggio ai custodi dell'agricoltura eroica di uno dei territori più belli d'Italia. Il presidente Emilio Pesino ha firmato il sodalizio e da oggi anche gli olivi di Venafro rappresentano in Italia un esempio di agricoltura sostenibile capace di farsi motore di sviluppo dell'economia locale. L'Associazione darà voce a quell'agricoltura che esprime le radici culturali di un territorio e all'opera dell'uomo che vive in armonia con la natura, un legame che nasce alla luce della sostenibilità ambientale, economica e sociale. La mission, infatti, è quella di rivendicare il mantenimento, la tutela e la promozione del patrimonio agricolo di tipo tradizionale, partendo dal riconoscimento dell'opera degli agricoltori custodi speciali dei territori.